La prima domanda che faccio è che cos'è l'antimafia? No, cos'è l'antimafia? Che cosa complicata, che cos'è l'antimafia? Spesso però abbiamo incontrato anche un'antimafia che non era antimafia, è molto confusa la situazione e spesso credi che la gente che ti sta intorno, quella che fa cose sia contro la mafia, che voglia vivere una vita senza mafia, che voglia rischiare tutto per non avere rapporti con la mafia, per non avere vantaggi dalla mafia. Cos'è l'antimafia? L'antimafia fa innanzitutto il proprio dovere, essere a posto con le leggi della vita, le leggi naturali della vita, ma anche con la solidarietà senza prevaricazione, c'è chi è antimafioso dovrebbe rispettare l'altro. Io non sono religiosa, cattolica, ma molte cose della religione le trovo proprio dentro l'antimafia. Complicato, perché è una città questa infida, una città complicata, una città furbetta, spesso disonesta. Cosa vuoi che ti dico? Cos'è l'antimafia? Spesso ho trovato comportamenti non adeguati in gente che si era raccolta intorno a una sigla antimafia. Insomma, io penso, voglio essere molto banale, io penso che antimafia significhi amore, che significa, lo ripeto, solidarietà. Negli anni Ottanta hai lavorato a stretto contatto, suppongo, anche con le forze di polizia. Ci vuoi raccontare un po' come funzionava? Ritornai a Palermo negli anni 74 con rancore verso la polizia, perché caricava gli studenti, che manifestavano per una società più giusta, ero stato a Milano, per cui lì erano avvenute molte cose. Anche un ragazzo era stato ammazzato dalla polizia, naturalmente, per sbaglio diciamo. Per cui ero piena di dubbi e di antipatia per la polizia. Quando incominciai a fare la foto reporter per il quotidiano l'ora, dovessi entrare in contatto con la polizia, perché ogni volta che avveniva qualcosa, c'era la polizia. E devo dire che piano piano, specialmente perché ho incontrato le persone stupende, come Boris Giuliano, vicequestore di Palermo, capo della squadra mobile, che ci aiutava, che aiutava noi giornalisti, noi fotografi a lavorare, ma era anche un bravo poliziotto che voleva veramente, veramente sconfiggere la mafia. Poi Boris Giuliano morì ammazzato, proprio perché era bravo, perché era... E mi ricordo che lui spesso nei momenti più caldi, pericolosi, in cui i mafiosi, diciamo, la gente legata al morto ammazzato, o all'arrestato, voleva impedirci di fare il nostro lavoro, il mio lavoro di fotografa, e lui ci salvava sempre. Ci furono anni in cui la polizia fu veramente con il popolo, questo bisogna ricordarlo, anche se contemporaneamente c'era una parte della polizia, ai vertici, che lavorava contro noi, contro noi che non volevamo la mafia. Quest'ora lo sappiamo che tanti furono collusi, così come furono collusi i giudici, professionisti. Dentro le università ci furono pure, se non collusioni, ci furono sicuramente indifferenza nei confronti a quello che stava succedendo. Stavano succedendo cose terribili che oggi la gente non sa, perché non ha visto, non ha visto i corpi morti, non ha visto il sangue, perché oggi la mafia c'è ancora, la gente paga il pizzo, sta zitta, e poi la mafia, la mafia, molti sono in prigione, quelli che sono rimasti sono sempre pericolosi, ma più che altro sono pericolosi quelli collusi con i politici. Abbiamo una classe politica indegna, non tutto, è indegna. Spesso la lotta contro la mafia è fatta solo dai giudici, e questo è terribile, è molto triste. da alcuni giudici, da alcuni giudici, non da tutti. Prendo allora la palla al balzo giusto per capire qual è la tua posizione rispetto alla storia delle intercettazioni dove in maniera indiretta è stato intercettato Napolitano e della campagna che sta facendo Repubblica a favore di una legge sulle intercettazioni e soprattutto a favore della distruzione di queste intercettazioni che comunque sono importantissime. Ma come mai Repubblica fa una campagna del genere? E a Dio Pizzo pubblica sul sito questo servizio di Repubblica prendendo, schierandosi dalla parte di queste istituzioni che in questo momento non si capisce da che parte stanno. È complessa la cosa. Io penso che un capo dello Stato sia un cittadino come me e come te e che le intercettazioni che abbiamo che hanno trovato i giudici debbano essere divulgate come qualsiasi altra intercettazione quando questo serve ad arrivare alla giustizia. Non so perché Repubblica si comporta così ormai ormai sono cadute molte illusioni Repubblica era il mio giornale per tanti anni non lo compro più. Addio Pizzo non so cosa dirti non so cosa dirti ed è ed è ed è ancora più pesante per me che che ho 77 anni cioè non potermi neanche più illudere che ci siano pezzi importanti della società che vogliono resistere per sostenere la verità la verità quanto è importante la verità non sono d'accordo e purtroppo non ho mezzi non sono solo una fotografa però però in tutto il mio appoggio per quei giudici per quei pochi giudici che stanno lottando veramente veramente sento l'atmosfera certe volte c'è un'atmosfera a Palermo certe volte oggi certe volte c'è un'atmosfera come i tempi di Falcone quando veniva insidiato da tutte le parti e poi lui non si fu più tu hai fatto delle fotografie che hanno fatto il giro del mondo fotografie diciamo che i giovani fotografi anche quelli un po' più esperti diciamo ti vedono come un punto di riferimento per un certo tipo di fotografia che in qualche modo io diciamo anche se in maniera completamente diversa perché tu sei stata sul territorio molto più tempo io per esempio ho visto delle fotografie fatte da Patrick Zachman a Napoli sulla guerra di Camorra negli anni 80 e anche da Francesco Cito il tuo lavoro diciamo ha vinto anche premi importantissimo Eugene Smith e tanti altri che ho anche qua elencato si può fare ancora oggi un lavoro fotografico del genere secondo te è consentito per esempio tipo dagli uffici stampa e la polizia è consentito da non lo so non era non era consentito neanche allora fare certe fotografie infatti come ti dico Boris Giuliano ci aiutò e gliene sono ancora di conoscente perché sono riuscito a fare il mio lavoro è sempre stato molto difficile fotografare la cronaca oggi è molto più complicato perché il fotografo il fotografo che volesse raccontare la mafia qui o la camorra o l'andrangheta con chi avrebbe a che fare certo non con le stesse facce di allora non con gli stessi metodi c'è da quando c'è questa specie di trattativa c'è stata di trattativa tra stato e mafia non ci sono più morti ammazzati meno male che non ci sono più morti ammazzati ma il racconto di un fotografo è più è più non c'è è quasi impossibile raccontare la mafia oggi a meno che tu non fotografi qualcuno che sta in Parlamento col colletto bianco la cravatta che però non ha non ha quel e il punto è che io fui fotografa nel momento in cui i colonesi si scatenarono ci furono 15 anni di stragi di complicazioni varie processi arresti ferimenti e noi eravamo un gruppo di fotografi che volevano raccontare volevano documentare che volevano che volevano denunciare quello che stava avvenendo per cui correvamo forse più degli altri forse avevamo anche un giornale che ci che ci che pretendeva questo da noi e questo fu importante oggi i giornali che pretendo e voglio rapporto alla fotografia ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare perché coloro che sono i picciareditor dentro i quotidiani dentro i settimanali umiliano profondamente i ragazzi che tentano di raccontare in modo interessante in modo nuovo sicuramente possibilmente il mio modo di fotografare oggi non sarebbe neanche bello non so non so ma dentro le redazioni dei giornali coloro che dirigono il servizio fotografico in genere non sono fotografi non amano forse neanche la fotografia e per cui mortificano innanzitutto considerando la fotografia qualcosa da pagare con pochi spiccioli perché la considerano forse qualcosa meno intellettuale dei loro scritti loro sbagliano perché le mie fotografie rimangono e gli scritti di tanti giornalisti arroganti non ci sono più per cui è un errore è un errore è proprio un errore non dare importanza al lavoro dei fotografi perché la documentazione visiva è molto importante così come il cinema naturalmente come documentari però da quando c'è la digitale tutto sta andando a puttane perché tutti credono di fare fotografie pure i giornalisti per cui non si coltiva la cultura della bella immagine noi l'avevamo in quei tempi io io non guardavo alla moda io guardavo a Caravaggio io guardavo ai grandi artisti del passato anche correndo e sbagliando magari esposizione il flash che non mi funzionava nella fretta nella paura nel disagio io la composizione doveva essere importante e naturalmente non sempre le foto buone venivano e naturalmente è molto importante selezionare dopo con molta severità il proprio lavoro tu guarda le sciocchezze che ci sono su Facebook c'è le foto banali che la gente fa c'è la foto solo ridicole ridanciane scherzose e invece il mondo può essere raccontato con molta molta amore molta sincerità molta eleganza quante mostri hai fatto qua a Palermo una sola me la fece fare Orlando undici anni fa prima che arrivasse poi la destra e no Palermo non mi fa fare mostri in Germania ne ho fatte tantissime le faccio ora in Italia anche in Italia specialmente anche le grandi città ma specialmente nei paesini anche nel sud questo mi piace molto mi piace molto a Palermo a Palermo non mi vogliono a Palermo ma come vai? non lo so non lo so forse sono imbarazzante sono troppo intransigente troppo ma può essere che per esempio le tue fotografie non le vogliono vedere più perché sono sono troppo forti per esempio ma è naturale io sono ho registrato la vergogna per cui per cui sono troppo forti pure per me le mie foto io non non certe volte sto male dinanzi quando le preparo per le mostre le vedo tutte insieme quando vedo quei poveri giudici ammazzati o ragazzi ammazzati ho gente che soffre ragazzi la droga che fa si dimentichiamo i ragazzi drogati morti per overdose o distrutti proprio psichicamente dunque io credo che che bisognerebbe fare una grande una grande una grande una grande grande lotta perché si ridimensionino tante cose per esempio per esempio ripeto la mia età ho 77 anni io voglio lasciare qualcosa non voglio lasciare solo i miei negativi le mie foto che saranno patrimonio spero spero di questa città se non mi distruggeranno i negativi non lo so credo che le mie figlie proteggeranno il mio lavoro ecco io prima di prima di sto progettando di fare un centro a Palermo di fotografia con un museo della memoria con una galleria fotografica e con una scuola fotografica io voglio che almeno nel mio campo ci sia ci sia professionalità disciplina conoscenza conoscenza se un buon fotografo non può essere buono se non va nei musei se non si guarda i libri fotografici degli altri fotografi se non capisce che cosa è che cosa è la fotografia questo è più complicato però bisogna lavorarci sopra e studiarci oggi nel 2012 sicuramente bisogna muoversi in un certo modo e io vorrei soltanto raggruppare la gente che ha tanto talento che non ha spazio che non ha possibilità di fare vedere le proprie foto sia in pubblico che in privato perché un fotografo deve mostrare le proprie fotografie agli altri fotografi e scambiarsi così ognuno così possa scambiarsi la cultura sua con quella dell'altro fotografo un centro di fotografia sto aspettando che mi diano di uno spazio meraviglioso con i cantieri culturali della Zissa molto grezzo molto semplice bisogna mettere le porte e pavimentare col cemento e basta ce la farei una camera scura dentro no non ce la faccio la camera scura perché la camera scura è un'altra cosa molto affascinante io per anni 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 ho stampato in un bugigattolo buio sempre al buio con tanta passione e tanta gioia ma oggi ci sono le digitali non è più possibile stampare io non riesco più a stampare perché non trovo la carta non trovo i liquidi qui per esempio a Palermo a Milano a Roma ci saranno ma qui è difficile trovare troppo difficoltoso stampare in camera scura con la carta e l'ingranditore come si faceva tanti anni fa no si può usare un laboratorio la fotografia non è è una visione è come è come tu vedi il mondo quello mi interessa di più come tu ti approcci al mondo come tu ti approcci senza vanità ma con tutto te stesso fotografare significa mettere te te il tuo cuore la tua testa il tuo sangue e unirlo con una parte del mondo e lì dovrebbe succedere qualcosa dovrebbe nascere uno stile magari non nasce però se sei sincero se fotografi senza marchi ingegni intellettuali che poi lasciano il tempo che trovano la fotografia può essere una grande grande cosa per esprimersi così come non si dipinge quasi più con il pennello e si fanno altre cose la fotografia può essere meravigliosa anche con la tecnica digitale alla quale io mi sono avvicinata da pochissimi però la devo usare perché non c'è altro modo Hotel Zagarella Salvo e Andreotti dunque Giulio Andreotti era venuto a Palermo per la campagna elettorale avevo fotografato la mattina Giulio Andreotti con accanto Ciancimino questa era già una gran foto perché si diceva che Ciancimino fosse uscito dalla DC ero soddisfatta basta ho fatto il mio lavoro e vado allo studio il giornale mi richiama e mi dice vai all'hotel Zagarella vai all'hotel Zagarella che c'è lì una specie di ricevimento e così fotografia ancora Andreotti e tutti quanti io vado all'hotel Zagarella non mi piace andare all'hotel Zagarella perché ero stanca perché dovevo andare fuori di Palermo vado all'hotel Zagarella incontro questi qua questi figuri faccio qualche scatto non so manco cosa scatto manco scatto con piacere e me ne vado dopo dopo anni bussano alla mia porta e mi vedo sei giovanottoni alti grandi forse pure belli e dico prego dice siamo della forse della dia dice dobbiamo guardare dentro il suo archivio dico dentro il mio archivio sì cercate qualcosa con piacere loro dicono piacere non piacere qua abbiamo una carta insomma erano molto severi entrano nella stanza dove ho i negativi mi chiedono fotografie della democrazia cristiana e dei socialisti io gli do la scheda e loro erano sono le 10 e mezza 11 del mattino e io dovevo uscire dico io devo uscire se no 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 non può uscire no no dico io esco vi lascio qua e basta dopodiché alle 6 loro se ne vanno 6 del pomeriggio senza mangiare e io dico ma almeno posso sapere mi sono stata utile loro mi guardano e mi dicono sì e se ne vanno io non so neanche che cosa hanno trovato cosa hanno cercato sapevo la democrazia cristiana dopo qualche mese mi telefona qualche mese Attilio Bolzoni della Repubblica e mi dice Letizia hai fatto uno scoop dico ma quale scoop non ho fatto nessuno scoop cioè sì hai fotografato Giulio Andreotti con il mafioso Salvo che lui diceva di non avere conosciuto ed era poi allora sono andata al tribunale dove era lì il mio negativo stampato ho visto la foto era orribile era mossa sfocata una delle peggiori foto che gli avessi mai fatto che io non avevo scelto perché il giornale non aveva pubblicato le foto allora quella era brutta non l'avrei mai scelta una foto brutta però questa foto è stata la foto che ha dimostrato che Giulio Andreotti diceva bugie però siccome il fatto era avvenuto prima troppi anni prima tutto era accaduto come si dice in prescrizione in prescrizione per cui la mia foto è servita solo per i libri di storia dove si dice che lui non è stato condannato perché tutto era andato in prescrizione ma la mia foto brutta la mia brutta foto mossa sfocata dove c'è lui salvo Lima anche Mattarella poverino è il mafioso salvo è servita cioè io Giulio Andreotti se tu andavi alla bucceria e gli dicevi ma chi è Giulio Andreotti ti rispondevano un mafioso per cui noi lo sapevamo che lui era responsabile responsabile di tutta la carneficina che stava succedendo responsabile indirettamente perché lui appoggiava la democrazia cristiana che aveva di Palermo la corrente andreottiana che aveva rapporti con la mafia per cui Giulio Andreotti Giulio Andreotti il nostro primo ministro per sette volte sono veramente e quindi i fotografi valgono meno di due di picche no non sento perché non è la foto ho letto la tua intervista che dice ti chiedono così allora non è vero che valgono ma non è assolutamente vero che valgono che non valgono certe volte non vogliono essere non sono considerati certo ma così come certe volte non viene considerato un giudice come Ingroia che ha fatto una lotta forte e non è stato considerato niente se ne è andato quello se ne è andato e ci ha lasciato purtroppo perché io non lo so perché veramente se ne sia andato posso pensare che che aveva saputo che lo volevano vabbè insomma non ne parliamo l'ultima domanda basta che ne pensi della legge sulla privacy quale privacy infatti ma quale privacy non esiste la privacy quando hai specialmente responsabilità se io sono una donna libera che non ho nessuna nessuna responsabilità sociale posso fare quello che voglio certo posso avere i miei amorazzi posso fare questo e nessuno mi verrà disturbare ma se tu sei un uomo politico o una donna politica che gestisci hai il dovere di comportarsi in un certo modo e tra l'altro se parliamo della privacy in rapporto a Berlusconi o a tutte le altre cose schifezze che sono avvenute che avvengono continuamente io me ne so vengo della privacy ma quale privacy cos'è la privacy alla luce del sole è tutto che avvengono Grazie a tutti.